Sì! Ronnie Coleman! Mister Olimpia! Per due anni di seguito! Sì! Hai visto qualche incontro di wrestling di troppo, eh? Non è wrestling, papà. È bodybuilding. C'è una bella differenza. A più tardi. Bravo. Addio, Mike. Non addio, papà. Odio dire quella parola. È molto meglio a più tardi. D'accordo, a più tardi. Mike! Flex Wheeler! 130 kg, una montagna di muscoli, 2% di grassa in tutto il corpo! Sì! Sì! Sì, baby! Per essere un vincente nella vita, dovete sapere che sarà difficile. È un cammino in salita. Però, sempre possibile. Dovete sempre tenere a mente che, per quanto possa essere difficile, città